No, no, per dire che le preoccupazioni del direttore sono più che legittime. Quando io ho fatto quella proposta ho detto, nessuno ha la verità in tasca e neppure io evidentemente, ho detto una proposta che lancio lì. Dopodiché ci sono tante possibili mediazioni, io ho sentito che qualche sindaco per esempio ha detto apriamo fino alle 10 di sera, cioè fino all'ora di questo, quanto è brutta questa parola, coprifuoco, no? Evoca tante cose, perché dietro l'angolo, attenzione, lo dico da tecnico evidentemente, dietro l'angolo c'è la depressione del paese, c'è la preoccupazione, l'ansia delle persone che sono terrorizzate, anche nelle parole, coprifuoco è una bruttissima parola. Ora però dico, va bene, apriamo fino alle 22, apriamo i negozi dalle 7 del mattino alle 22, cioè io non sono, come dire, affezionatissimo, sono affezionato, ma non fino alla tortura, alla mia idea. Dico troviamo però la possibilità di ampliare il più possibile. Se il direttore, che come tutti gli opinion makers, evidentemente sente questa cosa, evidentemente è un motivo da prendere in grande considerazione, aumentiamo il più possibile. Chiedo fuori un emendamento a fine mattinata dal mio studio, mi sembra che stiamo lavorando bene. Grazie a tutti.